Dunque provo a fare la intro utilizzando anzi sfruttando la facecam visto che sembra che da quando ho formatato il pc le cose si siano un po' sistemate quindi quei lag pesanti che avevo sembra essere spariti però io sinceramente non sono molto convinto. Oltretutto prima mi ha dato ancora dei problemi cioè appena prima di registrare questa parte di video laggava bestia vabbè adesso sembra che non laghi più magicamente dunque ragazzi oggi vediamo un altro emulatore quindi nulla di nuovo perché stiamo parlando andremo a parlare di playstation 1. Questo qui è un vecchio emulatore che risale al 2003 se non sbaglio l'ultima versione fatta che si chiamava pcsx che poi tra l'altro sono gli stessi che poi hanno fatto il pcsx 2 per la playstation 2 emulatore molto buono oltretutto. Questo qui si chiama pcsx redax hanno preso il pcsx e l'hanno un po' modificato probabilmente stanno tentando di migliorare qualcosa però insomma adesso lo vediamo insieme e poi insomma alla fine del video vi dico cosa ne penso. Dunque facciamo la solita introduzione di rito quindi come sistema operativo vado ad utilizzare sto utilizzando windows 11 a 64 bit in versione 2022 e come browser web andrò ad utilizzare firefox. A questo punto aprite il browser che più vi piace ci richiamo su questa pagina chiaramente vi lascerò poi tutti i link in descrizione. Questo emulatore si chiama pcsx redax o redux e cos'è questo non è altro che una versione diciamo rivisitata del famoso pcsx quindi stiamo parlando di emulazione di playstation 1. Anche qui ragazzi come sempre vi esorto a dare una letta a tutto il sito perché ci sono molte cose interessanti che chiaramente adesso qui io non posso stare qui a dirvi tutto. Quindi date una letta trovate informazioni molto utili magari trovate anche qualcosa per cui non vi torna qualcosa non vi funziona dando una letta al sito magari riuscite anche a risolvere qualche piccolo problema. Quindi insomma dato una letta che qui è spiegato un po' un po' tutto quanto adesso chiaramente qui non possiamo vederlo tutto insieme tutto quanto insieme e ve lo guardate da soli chiaramente il sito facciamo una carrellata veloce delle sue pagine. Da notare da notare che abbiamo cioè troviamo già il suo interno un bios vedete qui c'è la sezione open bios di conseguenza non abbiamo bisogno di utilizzare i bios ufficiali della playstation. Possiamo tranquillamente utilizzare e sfruttare il bios che troviamo già all'interno. Non è detto che tutti i giochi funzionino con questo bios però comunque non abbiamo neanche bisogno poi per il momento per cominciare diciamo non abbiamo bisogno di andare in cerca dei bios ufficiali se non se non li abbiamo sotto mano chiaramente. Quindi io direi proviamolo così proviamolo con questo open bios e comunque vediamo un po' come fa adesso qui chiaramente non sto a provare tutto il parco giochi della playstation. Proverò un paio di giochi tanto per vedere come funziona oltretutto non c'è moltissimo da dire perché è un emulatore abbastanza scarno se vogliamo e non è che si possono fare grandi cose non abbiamo grandi impostazioni video è molto molto easy cioè carichiamo il gioco parte il gioco basta cioè facciamola come una volta fatta la configurazione del controller siamo a posto insomma non è che sia chissà cos'altro. Allora andiamo nella sezione home qui abbiamo you can get the emulator for various platform here quindi clicchiamo qui è un link a una pagina di github e da qui noi possiamo appunto andare a scaricare la versione che più ci interessa. Adesso la troviamo per windows sia in 32 che 64 bit la troviamo anche per linux e anche per mac qui anche qui se volete date uno sguardo alla pagina di github magari ci sono cose interessanti magari ci sono cose in più rispetto a quelle che sono nel sito non lo so adesso ragazzi non sono stato qui a leggerlo tutto quanto. Comunque qui abbiamo abbiamo questo riquadro appunto da dove possiamo scaricare la versione io adesso ho un sistema operativo a 64 bit di conseguenza scaricherò la versione a 64 bit. Se non sapete che sistema operativo avete voi che si perché magari avete un computer vecchio ma avete dubbi scaricate la versione a 32 quindi clicco su windows intel 64 bit si dovrebbe aprire un'altra pagina esatto. Aspettiamo un secondo sta caricando. Vediamo se perfetto qui abbiamo tutte le anche le vecchie versioni ma noi interessa l'ultima al momento disponibile che è questa qui del 6 novembre 2022 chiaramente e clicchiamo qui su download. Downloading eccolo qua scarichiamo sono 32 mega e rotti prendiamo il file adesso io chiaramente qui ragazzi come vi dico sempre in ogni mio video. Vado a lavorare sulla scrivania non si fa mai è una cattiva abitudine non imparate da me questa cosa io lo faccio perché vi sto facendo il video dopodiché prendo questi due file due tre file quelli che sono e li copio li vado a spostare all'interno dell'archivio dei miei emulatori. Mi raccomando abbiate cercate di avere un computer ordinato non lasciate file in giro cercate di organizzare tutte quante le cose le cartelle ci sono possiamo crearle quindi sfruttiamole. Allora cosa ho da fare un tasto destro winrar estrai file in chiaramente adesso winrar perché sto utilizzando winrar voi potreste avere winzip 7zip qualsiasi altra cosa oppure anche l'estrattore quello di windows direttamente. direttamente in qualsiasi caso vado a fare un'estrazione in cartella in modo che si crea già una cartella con all'interno tutti i file dell'emulatore in modo che restano lì e non vanno dispersi sulla scrivania in questo caso. mi ha creato la cartellina entro dentro e qui infatti trovo tutti i file di questo emulatore e quindi qui noi brutalmente facciamo un doppio clic sull'eseguibile ok bcsxredux.exe vedete qui abbiamo anche i file dell'open bios open bios open bios open bios e quindi non dobbiamo andare a scaricare i bios ufficiali. poi chiaramente bisogna vedere con quanti giochi questo bios poi sarà compatibile magari qualche gioco dà problemi qualche gioco non parte magari provate a cambiare il bios se il gioco funziona cioè quindi è sempre una cosa l'emulazione ragazzi va sempre testata sperimentata provata ok non c'è mai nulla non c'è mai nulla di sicuro se anche cioè apro una piccola parentesi cioè non dovete voi diventare matti perché non riuscite a far girare un gioco bene cioè o meglio un gioco come volete voi con un determinato emulatore ragazzi si parla di emulazione cioè l'emulazione non è perfetta ok ed è anche molto soggetta al tipo di hardware che utilizziamo quindi le variabili sono tantissime cioè se un gioco va bene ok ma se avete un gioco che perché veramente a volte mi scrivono persone che diventano matte e si fanno mille problemi del perché quel gioco non riesce andare ragazzi l'emulazione non è perfetta quindi dobbiamo prenderla come viene doppio clic su PCSX Redux ok allora si apre in finestra chiaramente qui ci dà un avviso un avviso se vogliamo praticamente tenere l'emulatore aggiornato quindi quando poi ci saranno aggiornamenti futuri insomma ci verrà notificato quindi e oltretutto c'è un auto update quindi in teoria avviandolo penso che dovrebbe scaricarsi da solo l'aggiornamento e te lo dice guarda che c'è una versione nuova la scarico te li installo quindi in teoria dovrebbe funzionare così io gli dico di sì enable auto update ok così è una cosa più comoda e non dobbiamo poi noi andare ogni volta nel sito a verificare se c'è un aggiornamento quindi clicchiamo qua perfetto quella non tornerà più quella finestrale lì allora siamo qui quindi emulatori in finestra intanto ottimo ottima cosa ve l'ho detto mille volte gli emulatori in finestra sono per me i più belli perché sono i più intuitivi e con le voci in alto clicchiamo sulla voce vedete si apre la tendina tutto bello lineare tutto molto chiaro allora come vi dicevo non c'è tantissimo a dire in realtà su questo emulatore possiamo dare un sguardo veloce e rapido alle sezioni ma sono un po ridotto all'osso quindi abbiamo un file quindi chiaramente open disk image close disk image quindi possiamo aprire l'immagine del disco chiudere l'immagine del disco caricare un file binario perché può anche capitare che quando scarichiamo un gioco della playstation abbiamo vari file all'interno una iso un punto qe un punto bin eccolo qua che magari in quel caso gli diamo load binari e lui ci dà possibilità di caricare un file binario però vabbè queste sono sempre cose da testare dump save state protoschema alzo le mani non lo so possiamo salvare quindi qua abbiamo gli slot di salvataggio possiamo caricare uno stato abbiamo anche comunque il tasto di scelta rapida quindi f1 salviamo f2 carichiamo abbiamo anche un salvataggio globale adesso per globale è una cosa più ampia non so cosa intenda però comunque si può fare un salvataggio globale forse probabilmente salvando in modo globale bypassiamo il discorso delle slot degli slot di salvataggio non lo so open lead close lead open and close lead questa è un'altra sezione che non capisco ok quindi anche qui vedete un po voi io adesso qui cerco di mettermi in condizione di far partire un gioco configurare un controller come in questo caso già collegato questo qui simile xbox 360 mi raccomando quando utilizziamo gli emulatori in generale è sempre cosa buona e giusta aver già collegata la nostra periferica che sia un controller una pistola quello che sia non andiamo mai a collegarla dopo perché non tutti gli emulatori sono in grado poi di riconoscere la periferica che abbiamo collegato successivamente all'avvio e possiamo fare un reboot e chiudere ok quindi ragazzi qui bisogna che cominciamo ragazzi adesso qui anche per l'anno prossimo 2023 dovete cominciare a darvi una svegliata anche voi però eh io non posso ogni volta dirvi tutto quanto quindi tante cose che non so ve lo dico onestamente open lead non lo so ditemelo voi provate vedete un po cos'è cercate voi di capire qui la differenza appunto fra un save state slot o un save global state ma secondo me qua salviamo sulla slot di salvataggio qui no è un salvataggio generico eh però comunque sono sempre cose da testare da capire quindi file sezione file possiamo quit ok possiamo chiudere l'abbiamo vista emulation start facciamo partire l'emulazione possiamo mettere in pause possiamo fare un soft reset oppure un hard reset è come se spegnessimo e riaccendessimo la la playstation praticamente e ricordatevi qui comunque eh f5 f6 f8 quindi ehm abbiamo anche i tasti di scelta rapida che secondo me è una cosa buona eh da memorizzare perché ci vengono insomma in aiuto apposta eh configuration vediamo un po' cosa cosa abbiamo all'interno di emulation allora all'interno di emulation scusate un secondo ok si apre questa finestra anche qui adesso abbiamo un bel po' di cose che appunto sono da testare capite cioè vedete sono cose un po' tecniche come faccio a dirvi eh idle swap interval qua è uno a me cosa a me non dice nulla a me per me questa cosa non vuol dire niente posso mettere 10 e che vuol dire cioè capite quindi lascio uno eh reset reset scaler speed scaler anche qui che velocità è dello scaler enable xa decoder cioè queste qui sono tutte cosette che ragazzi sinceramente ehm dovete testare voi non non posso dirvi mettete questo mettete quello abbiamo un fast boot ad esempio che potrebbe essere interessante probabilmente secondo me potrebbe bypassare il caricamento del bio presumo ma insomma come vi ho detto prima vedete qui abbiamo un open bios che è già caricato di default ma volendo qui noi potremmo cambiare questo bios presumo io non l'ho provato provatelo voi se avete i bios ufficiali provate a caricare un bin di un bios ufficiale io adesso utilizzo l'open bios che troviamo all'interno così vediamo insomma un po' se funziona nel caso cliccate qui sui tre puntini vi si apre la navigazione l'esplorio risorse e andate a caricare il bios ufficiale eh lo stesso qui possiamo abilitare il debugger ma comunque sono tutte cose queste un po' tecniche che sinceramente non so neanche io cosa possono voler dire capite basta io qui vi direi non toccate nulla massimo se proprio proprio vi potrei consigliare di se volete un fast boot se siete uno di quelli che hanno fretta ok di proprio appena caricano il gioco deve essere già in game e al limite vedere di provare a sostituire il bios l'open bios con un bios ufficiale ok ma qui dentro io non farei null'altro ehm configuration allora qua abbiamo discorso manage memory cards quindi discorso dei salvataggi eh possiamo modificare penso cancellare vediamo un attimo lo apriamo insieme vediamo come è strutturato si esattamente blocco vedete qui abbiamo tutti i blocchi di salvataggio i famosi blocchi della memory card della playstation vi ricordate ok qui possiamo gestire probabilmente si potrà cancellare spostare copiare insomma fare un po' di cose ehm gpu gpu bene qui non è che ci sia granché gpu vedete questo sarebbe queste sarebbero le impostazioni video cioè non abbiamo nulla praticamente ok abbiamo qui una tendina possiamo selezionare queste 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 cose qui ma difterrain sì o meno possiamo usare un filtro lineare o meno ok però questo sempre da testare ehm s più è un'altra cosa che sinceramente personalmente vi dico non so cosa voglia dire perché proprio proprio non non sono non mi sono neanche informato ok ve lo dico sinceramente ehm perché quando cominciamo a entrare troppo nel tecnico ehm qua si entra un po' nel campo della simulazione quindi è un passaggio è un qualcosa che va oltre è un passaggio successivo uno step in più che sinceramente non non lo so non anche no capite anche no però comunque però comunque potete sempre provare vedete qui abbiamo delle tendine dove possiamo cambiare qua ci dice accurato semplice ok eh interpolazione riverbero cioè abbiamo il volume più alto più basso questo potrebbe essere il volume proprio però anche qui device ok qui abbiamo su device abbiamo l'uscita audio in questo caso sono le casse eh però qui non tocchiamo nulla cioè capite io qua non toccherai nulla prima di andare a fare modifiche bisogna capire se i giochi che vogliamo giocare funzionano bene insomma quello è il concetto UI quindi penso sia dell'interfaccia qui quindi abbiamo il tema adesso è default possiamo mettere vedete classiche si cambia il colore abbiamo cherry eh Dracula mettiamo lasciamo pure default possiamo cambiare la lingua abbiamo inglese ellenica sarebbe presumo o francese teniamo inglese magari possiamo cambiare main font non so se sia la grandezza del carattere però si è la grandezza del carattere vedete possiamo aumentare un po' diminuire e l'altro sotto questo non so cosa sia possiamo mettere anche in widescreen l'aspect ratio però non so sets the output screen ratio tu sei 10 anni al posto che i 4 terzi bisogna capire se è riferito al gioco proprio o alla UI perché siamo sotto la sezione UI quindi è da testare anche questo potete farlo tranquillamente voi ehm sistema ok vediamo cosa c'è qui non c'è praticamente quasi nulla ecco questo c'è c'è il discorso dell'auto update che vi dicevo prima ehm preload disk image file vabbè lasciamo stare qui c'è anche la possibilità di fare un precaricamento di penso una determinata immagine ma comunque chi se ne frega ehm ci sono un paio di effetti c'è un effetto CRT qui che è molto ben fatto devo dire possiamo configurare gli shaders ok qui non è successo nulla non so magari in gioco funziona qualcosa però adesso qui va bene così debug ecco questa è la sezione di la famosa sezione di debug che io reputo sempre un qualcosa che può essere utile per un programmatore per uno sviluppatore di emulatori così ma per l'utente finale sinceramente anche no per noi che dobbiamo solo giocarci alla fine non è tutta una sezione questa che io salto proprio a prescindere ok non voglio neanche farmi del male a entrare dentro questa sezione help quindi qua abbiamo aiuto se volete e basta quindi ecco vedete non è che ci sia tanto ehm ha le funzioni di base insomma quindi ecco per tutto il resto ragazzi dovete sperimentare un po' ma secondo me insomma tanto vediamo come va qualche gioco dunque in teoria se rifaccio uno start dovrebbe caricarmi già l'open bios così vediamo che faccia sto open bios quindi io dico emulate start basso un po' il volume perfetto c'è anche la musichetta abbastanza bruttino ok qui è diventato rosso diciamo perché mi dà errore errore perché non trova non c'è un disco all'interno non c'è un disco inserito ok quindi adesso proviamo a caricare un gioco tra parentesi premendo es che vedete appare e scompare la barra in alto ok qua cambia la musica perché mi dice guarda che non c'è il disco dentro va bene allora quindi proviamo a dargli a questo punto file open disk image adesso qui non sono andato ragazzi a crearmi una cartella dei giochi perché ce l'ho già fatta ok quindi non faccio altro che sì grazie forse è meglio dirgli stoppati perché se no hard reset no facciamo pausa fermati lì se no open disk image quindi vado navigo all'interno della cartella dove so che ho i miei giochi roms varie psx vediamo un po' eccoci qua psx e quindi facciamo partire io farei partire il classico il solito gioco gunners evan oltretutto dovevo anche fare la configurazione del controller qui ho le varie scelte come sempre ragazzi vi ricordo di vi rammento si dice così se avete il punto q questa è il top è la top scelta prima in assoluto il punto q perché lì c'è tutto ci sono tutte le informazioni soprattutto per quanto riguarda la musica la colonna sonora del gioco quindi in questo caso vedete qua c'è tutto abbiamo un sub un image un ccd un punto q mancarebbe un bin diciamo però c'è tutto scelgo il q se va col q è benissimo se per caso non avete il q amen pazienza pace sceglierete il punto image il punto iso ok punto q e gli diamo open e vediamo emulation start vedete l'ha riconosciuto e lui sta caricando qua in alto ci dà delle informazioni 60 fps 59 60 uscire tra 59 e 60 forse sfiori 61 quindi siamo perfetti vediamo se si senta qualcosa ok può darsi che il controller già funzioni di suo però vediamo un attimo la configurazione che sinceramente prima mi sono dimenticato eccola qua configuration controls perfetto qui abbiamo il discorso del controller bene quindi ok allora qui in teoria questo tasto qui serve vedete rescan gamepads and read gamecontrollers database quindi in teoria esiste anche un database quindi potrebbe essere che questo qui sia un controller che è riconosciuto proprio perché è stato inserito in un database quindi lui in automatico già me lo configura potrebbe essere però comunque proviamo a cliccare vediamo che succede perfetto non succede nulla ma perché l'ha già fatto quindi pad pad 1 vabbè set for connesso ok il tipo di controller se digitale analogico oppure mouse ok proviamo a lasciare digitale device type tastiero controller proviamo a lasciare auto c'è la sensibilità possiamo regolare la sensibilità del mouse e qui abbiamo appunto i tasti quindi possiamo premere ok in questo caso questi sono quelli della tastiera possiamo premere qui tipo adesso ho impostato la x con la x della tastiera quindi basta premere dall'interno del tasto benissimo adesso l'ho rimesso x e vabbè la tastiera è questa gamepad qui in fondo ci dà invece le informazioni presumo proprio del tipo di controller che è collegato vedete x input gamepad e infatti ho solo questo quindi secondo me dovrebbe essere già impostato proviamo a vedere se funziona insomma quindi chiudiamo torniamo piccoli intanto provo a premere non start ok si funziona sia la croce che l'analogico game start perfetto ok scusate un attimo ok questo è il classico gioco ormai l'avete stravisto varie volte sui miei test sui miei pro degli emulatori alto invio andiamo a schermo intero ci siamo perfetto premio ESC così tolgo la barra in alto e ci siamo l'analogico funziona la croce direzionale funziona perfetto questo è un controller evidentemente sì è un controller che è già riconosciuto quindi non devo fare altro devo solamente giocare gioco comunque va benissimo sente benissimo perfettamente fluido non scatta nulla qua non mi ricordo più come devo fare ok devo farlo fuori in teoria beh ormai non fa niente ragazzi che succede qua vabbè non mi ricordavo sta cosa ok bisogna proprio distruggerla ok alto invio posso tornare piccolo proviamo magari ESC così faccio riapparire anche la barra in alto proviamo a caricare un altro gioco file open disk si apre sempre la navigazione torno indietro mando su top international superstar soccer pro anche qui ho il punto QE mi seleziono il punto QE gli dico open adesso è come avessimo noi inserito il disco abbiamo aperto il vano disk abbiamo inserito il disco abbiamo chiuso il vano disco emulation e possiamo farli anche spegni e accendi anche un hardware un hardware set faccio un errore che non ho ben capito vediamo se ce la fa ok e vediamo se mi ha preso sì perfetto ESC alto invio torniamo andiamo grandi perfetto questo io continuerò a dirlo questa qui è una delle intro più belle che abbia mai visto questi 5 secondi qua sono 10 secondi sono pazzeschi start ok il controller funziona sempre esibizione ok ma avanti così tanto ho già capito che funziona insomma perfetto adesso i tasti chi si ricordi i tasti volevo vedere però non so se posso farlo con questo controller perché magari qualcuno di voi utilizza poi un controller normale come può essere tipo quello del super nintendo per capire se c'era la possibilità di configurare i tasti oppure è una cosa che fa lui e là pure il palo preso alto invio torno piccolo ok proviamo a tornare un attimo su configuration controls poi vediamo anche l'effetto tv crt allora io qui ah ok no niente non tro non vedo un modo per modificare i tasti del pad quindi non so bisogna provare con un altro tipo di controller magari questo qui è già così perché rientra in questo controller database quindi è già preconfigurato va bene così quindi bisogna capire provare con un altro controller a meno che cliccando qui non andiamo no assolutamente no al momento mi sembra qui di non poter fare modifiche però magari o mi sta sfuggendo qualcosa comunque device type auto se metto controller no non fa nulla ok niente dai va bene così diciamo che è un'altra cosa che potete testare voi con il vostro con il vostro gamepad ok c'era un bellissimo effetto che vi ho detto configuration shader presets crt lottes shader guardate che bello questo effetto crt ma molto bello molto ben fatto non so se qui forse voi lo vedete un po' brutto non so come lo vedete voi in video eh io qua dal vivo diciamolo è un effetto molto molto ben fatto si vede molto bene bello però vabbè quindi insomma ecco non è che abbiamo chissà cosa eh beh chiaramente scusate se siamo a scarmintero basta semplicemente premere esche sopra ci appare la barra e facciamo le nostre le nostre modifiche del caso insomma quindi possiamo farlo tranquillamente eh da scarmintero intendo ecco torniamo magari normale perché sinceramente configure shaders ah ok giustamente giustamente una volta caricato l'effetto possiamo dare la configurazione quindi su configure shaders e facciamo la configurazione dell'effetto dello shader che abbiamo applicato in questo momento chiaramente ok quindi qui possiamo aumentare diminuire i vari valori togliere mettere raggiungere cose insomma eh ok adesso però sinceramente qui chiudo questo rimetto il preset default ok e e basta insomma quindi diciamo che è un emulatore insomma da provare da testare come tutti quanti gli altri allora secondo me ragazzi la situazione è questa abbiamo da una parte abbiamo l'APS XE e dall'altra parte abbiamo il Duck Station quindi capite bene che mettersi in mezzo e cercare di sviluppare un vecchio emulatore di Playstation 1 come il PCS X secondo me anche no cioè non c'è bisogno poi per carità uno un programmatore un sviluppatore che ha le capacità per farlo ci mancherebbe può fare quello che vuole però dal mio punto di vista io lascerei stare cioè il settore Playstation 1 lasciamolo perdere perché abbiamo già diciamo due colossi è difficile riuscire entrare e andare sopra superare questi due emulatori qui quindi l'APS XE e il Duck Station vabbè comunque onorevole ci mancherebbe una cosa molto nobile quella che stanno facendo quindi va benissimo così prendiamo atto per me anche no ve l'ho già detto dunque ragazzi se vi è piaciuto il video mettete un like se vi piacciono i video che faccio iscrivete al canale attivate la campanella così quando pubblico qualcosa di nuovo vi arriverà una notifica se volete seguirmi anche su Twitch ogni tanto faccio delle live ho provato ultimamente a fare anche su YouTube ma con scarsissimi risultati perché su Twitch c'è tutta un'altra interazione i tempi sono brevissimi la chat può interagire in vario modo con lo streamer invece su YouTube veramente è una cosa ancora indecente beh d'altronde ragazzi Twitch è una piattaforma nata per lo streaming YouTube no quindi ci sta comunque a parte questo ho attivato anche gli abbonamenti non so se vi siete accorti è un modo per supportarmi è un modo per farmi una donazione a mo' di abbonamento se voi cliccate su abbonati vi si apre una finestra e c'è scritto i vantaggi che avrete insomma con l'abbonamento e tutto qua comunque sempre un modo per aiutare lo streamer per aiutare il canale e supportare insomma un po' tutto quanto il progetto ebbene ragazzi detto questo ci vediamo alla prossima